Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a vedere ed a analizzare la situazione di questo inizio di settembre, perché proprio secondo anche gli ultimi modelli che avevo portato nei scorsi giorni qualcosa doveva cambiare nuovamente. Infatti dopo questa settimana di stabilità ma allo stesso tempo di risalita delle temperature, nuovamente un minimo depressionario si sposterà in direzione del nostro paese investendolo in pieno. Come possiamo vedere questa lingua d'aria più fresca che scenderà direttamente dal nord dell'Atlantico, si andrà a spostare sempre di più verso prima la Spagna, la Francia e poi anche a investire il nostro paese, liberandolo nuovamente da una morsa veramente molto calda per quanto riguarda il sud, mentre al nord rimarrà sempre più meteo. Ondata d'aria fresca che dovrebbe durare e a questo punto potrebbe anche aprire poi a dei vari scenari. Ma da come possiamo vedere il minimo depressionario sarà veramente molto potente, anche perché secondo gli ultimi modelli però è presto per dirlo, ci potrebbero essere anche delle alluvioni. Ma questo ovviamente è ancora tutto un po' presto per andarle a analizzare. Diminuzione termica che però ve la posso andare a far vedere, andiamo subito a vedere le anomalie. 858 Pascal per quanto riguarda questa andata è la più fresca. Scusate, eccoci qua. Andiamo subito a vederle. Eccolo qua, possiamo proprio notare il minimo che si sposterà verso il nostro paese investendole in pieno e portando anche una diminuzione termica molto sensibile, soprattutto anche al sud. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Grazie.